And this is the last lap they're going to do, so give them a round of applause. Signore e signori, iniziamo a preparare gli applausi per queste macchine che hanno girato. Ok, sentiamo gli applausi, un altro applauso. Sentiamo il rombo. Bari, vi è piaciuto? Domani mattina appuntamento qui. Grazie.